Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi. Riprendiamo stamattina con il seminario sulla responsabilità sociale ed impresa che abbiamo introdotto ieri pomeriggio e in particolare stamattina cominciamo con il vedere alcuni strumenti un po' più operativi rispetto all'introduzione generale che abbiamo fatto ieri. Partirei, come i tempi sono un po' stretti, abbastanza rapidamente, in particolare con uno che è il codice etico. Che cos'è il codice etico? Ieri abbiamo cominciato a vederne un paio, però non siamo ancora entrati nella definizione. Allora, è considerato il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno di un'azienda. È una sorta di carta costituzionale dell'azienda che sostanzialmente definisce diritti e doveri, per così dire, morali, etici dell'azienda e di chi agisce all'interno di essa, cioè per essere all'interno di essa. Il codice etico è uno strumento che in Italia si vede diffuso da non tantissimo tempo, parliamo di un decennio circa, prima erano casi molto più sporadici. Negli Stati Uniti, invece, comunque nel contesto anglosassone è uno strumento molto più diffuso. Questo è dovuto in parte al tipo di cultura d'impresa anglosassone e in parte anche al fatto che negli Stati Uniti e comunque nel contesto anglosassone sono molto più numerose le imprese di dimensioni grandi o molto grandi. E questo è un tema che vedremo ricorrere un po' in varie fasi nel lavoro di oggi, cioè la differenza fra gestire la responsabilità sociale, promuovere, introdurre la responsabilità sociale all'interno di imprese molto grandi e all'interno di imprese invece di dimensione media o piccola. in Italia il codice etico si è diffuso soprattutto da quando è stato fortemente spinto diciamo dalla normativa del decennio 231 per le società quotate, che lo ha reso obbligatorio per queste e diciamo ne ha favorito comunque la diffusione poi all'interno di molte aziende comunque almeno di dimensioni grandi, fino ad arrivare anche ad altri tipi di organizzazioni come per esempio le live organizzazioni non-profit, non a caso a cui vi ho riportato uno straccio del codice etico di ActionAid che è stato barato con un bel baritano. il codice etico innanzitutto, diciamo, bisogna intendersi su cos'è il codice etico perché a volte c'è, soprattutto c'era, ma c'è ancora quello che è nato tutto il cielo nel senso che il codice etico, alcuni lo hanno inteso come una carta di doveri, di principi abbastanza astratta insomma molto generale, senza delle indicazioni cogenti di comportamento mentre invece, diciamo, tradizionalmente l'impostazione di tipo più giuridico era proprio invece quella di dare delle indicazioni di comportamento abbastanza specifiche chiaramente, non ci ho intendo nel grande dettaglio, però abbastanza specifiche sufficientemente specifiche da poter essere sanzionate, perché se io rimango troppo sul generale diventa quanto impossibile poi andare a vivere se è un comportamento quello specifico ha violato o no quella norma. Negli ultimi anni si è assistito un po' al livellamento, diciamo, di queste due scuole molto lontane l'una dall'altra e abbiamo cominciato a vedere dei codici etici che sono più simili a quelli che vi dimostrerò oggi, cioè che parlano con delle informazioni anche molto amiche, ma arrivano a dare poi delle indicazioni un po' più stringenti in modo tale da poter essere poi utilizzati come strumenti cogenti all'interno dell'azienda. Prendiamo magari, giusto per dare una schiata ai contenuti e rendici quanto più concretamente di cosa si tratta, un documento vero e proprio che penso si vede a mettere soprattutto per chi ci segue la distanza. Allora, qui possiamo vedere questo codicepico, come tanti codicepici sono abbastanza simili, la prima parte è dedicata appunto ai principi fondamentali, quelli che prima dicevo principi molto pregarabili che in questo caso per esempio ActionAid ha identificato del rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'onestà e integrità, trasparenza e completezza dell'informazione, responsabilità verso la collettività, etica e tutti quelli che vediamo a seguire, però che si vedano anche in video la strassale dell'alto. Poi andiamo a vedere che eventualmente non sono stati formati alcuni di questi. La seconda parte riguarda invece le regole di comportamento, quindi sostanzialmente delle regole più specifiche che in questo caso, come in molti casi, sono articolate per stakeholder, per interlocutore. Quindi sono le regole che regolano, scusate le parole, i rapporti con diversi interlocutori che per quell'organizzazione sono molto importanti. Quindi in questo caso, prima di un'organizzazione non propria, chiaramente i nonatori sono ora i primi della lista, i fornitori, i collaboratori, le istituzioni e le pubbliche e i pubblici funzionali, l'autorità giudiziaria, in questo caso è un'organizzazione a parte rispetto alle istituzioni, i sindaci, le società di revisione, i dipendenti e le comunità locali. Vediamo qua, per esempio, vedo che hanno fatto un iso tra i più classici stakeholder, diciamo, da responsabilità sociale, pur come i dipendenti, le comunità locali, i donatori, i produttori, le istituzioni e alcuni stakeholder più specifici, come l'autorità giudiziaria, i sindaci e la società di revisione che sono magari un po' più specifici, che evidentemente, diciamo, riflettono qualcosa di peculiario per quell'organizzazione di rivesto di importanza specifica. e poi c'è tutta una parte che a volte c'è, a volte meno, a volte più profondita, a volte meno, insomma, dipende poi anche dalle sceglie che si fanno, di tipo anche di governance, di management, che è dedicata a degli aspetti più gestionali, quindi la regolazione della montabilità e dei controlli, dei dati e tutta una serie di altre informazioni più specifiche. Questo è un classico codice etico, diciamo, ispirato alle indicazioni del decreto legislativo 231, che è un decreto legislativo che è stato pensato per, diciamo, regolamentare la questione dei reati societari. quindi, insomma, non mi tenuto modo su quella desiderazione, perché sennò andiamo fuori tema, passando poco tempo. Però, sostanzialmente, il calice etico è uno di quegli strumenti che devono essere, in qualche modo, messi a punto, non tanto per il documento in sé, ma perché mettere a punto quel documento vuol dire andare a sistemare una serie di idee, di responsabilità e processi a monte, in modo da poter, diciamo, dimostrare, anche all'esterno, non solo all'interno, ma anche all'esterno dell'azienda, che quell'organizzazione si è strutturata per distribuire le responsabilità all'interno dell'organizzazione e quindi, a seconda del tipo di reato che eventualmente qualcuno che lavora per l'organizzazione dovesse manchiarsi, l'organizzazione né o non è responsabile, a seconda del fatto che avesse istituito delle regole che sono state eventualmente violate dal singolo. Quindi nasce un po' in questo modo di impostazione di questo tipo di codici etici, però anche una parte che è, squisitamente, di responsabilità sociale per questa quanta. Possiamo vedere, per esempio, qualche definizione di questo, potrebbe essere interessante vedere che non lo è. Questo è un codice etico abbastanza, come dicevo, abbastanza corposo, sono 16 pagine, quindi non è poco. Per esempio, la responsabilità verso la collettività, che sicuramente per un'organizzazione non profita una cosa molto seria. ActionAid, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di incremento, sullo sviluppo economico, sociale, sul benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziativa di valore culturale e sociale. oppure, ancora, un interessante, secondo me, potrebbe essere questo qua, sulla dignità delle persone. Promozione del rispetto e della dignità delle persone. ActionAid promuove e rispette i diritti fondamentali delle persone, potrante l'integrità morale e garantendo uguale la comunità. Nelle relazioni sienti, anche a esterno, non sono ammessi comportamenti che abbiano contenuto discriminatori delle abilità personale, della sfera privata e dei diritti della personalità individuale. Basato sulle opinioni politiche, sindacali, la religione, la razza, la razionalità e l'orientamento sessuale, lo stato di salute per imprendere qualsiasi caratteristica in una persona umana. Queste affermazioni, sicuramente generali, però sono abbastanza significative. Non so quante aziende italiane, delle dimensioni più o meno di ActionAid, che abbiano pensato di codificare questo tipo di regole. Non è una cosa davvero scontata. Anche perché poi ne riscendono delle conseguenze. Per esempio, in ActionAid questa cosa di garantendo uguale la comunità si traduce in un sistema di gestione delle risorse umane che fa molta attenzione al bilanciamento dei geni e dell'interno dell'organizzazione per livello, non solo come il confronto progressivo, ha un sistema incentivante, premiante dei direttori che dimostrano in vari modi di stare dentro questo aspetto, ha per esempio un sistema puntivo nei confronti di quei responsabili che hanno, per esempio, a loro interno un eccessivo ricorso allo straordinario. Perché questo non è visto solo come disorganizzazione del lavoro. Si sa, per esempio, che in molti casi un eccessivo ricorso allo straordinario mette più crisi in una donna o magari a un bambino o piccola a casa, rispetto a un uomo che in qualche modo, anche se ce l'ha. Quindi, cioè, ne discendono, se riprende sul serio, tutta una serie di conseguenze. In alcuni casi, come anche in questo caso, in parte il calcosa ritroso, c'erano alcune cose che avevano già nella loro cultura organizzativa, che le hanno sancite attraverso questo documento, che però è stato poi anche, diciamo, l'occasione per rafforzarle. Per cui sono diventate, diciamo, le tavole della legge e avendo loro istituito tutto un sistema organizzativo per cui i contenuti del calcettico vengono poi verificati da un esterno che dice, va bene, allora verrà esattamente un tipo cosa avete fatto, hanno anche poi strutturato ulteriormente questi aspetti. Quindi, sono, diciamo, strumenti che, in maniera poi dialogica, contribuiscono tutti a costruire un tipo di organizzazione di un certo tipo. Un altro che avevamo cominciato a vedere ieri è, per esempio, quello di Chiesa San Paolo, la cui struttura generale non è molto diversa. Vediamo se riusciamo a vedere almeno l'indice, e poi io questi documenti ve li lascio, comunque, inventarli, se si possono trovare assolutamente. Loro hanno fatto una parte che si chiama I nostri valori, che sono un po' corrispondenti ai principi che avevamo visto prima di ActionAid, e poi i principi di condotta delle relazioni con gli stakeholder che toccano, infatti come avevo visto prima, i principi di condotta generali con tutti gli stakeholder, e poi clienti, azionisti, collaboratori, produttori, ambiente e comunità, sono quelli che lo hanno identificato. Per ciascuno di questi c'è, come diciamo, vedete che sono abbastanza corposi, perché alcuni impiegano più di una pagina, quindi si divulgano abbastanza per impiegare, come pensano di gestire questi aspetti. E poi tutto il primo sistema di controllo che hanno messo in piedi, tra cui i contatti, che non sono una cosa scontata, nel senso che un codicepico dovrebbe sempre dare la possibilità a qualunque dipendente, o anche all'esterno, che ne rilevasse una violazione, di poter contattare qualcuno, in forma anonima, o in forma dominale, come si preferisce, dicendo c'è stata questa violazione. perché poi il codicepico, appunto, è uno strumento normativo all'interno dell'azienda, parte l'internal unit e va a verificare se questa violazione, praticamente, è sanzionabile. Quindi, essendo uno strumento, appunto, di dialogo, deve essere possibile per chi si interfaccia con l'azienda, che sia un altro dipendente, che sia magari un cliente, rivolgersi a quell'azienda con il contatto preciso, e direi che c'è stata questa violazione. Allora, sulla realizzazione, pianificazione e implementazione della CSR, come forse abbiamo già cominciato da solture ieri, pianificare e implementare la responsabilità sociale all'interno di un'organizzazione, segue il tradizionale piano, diciamo, il tradizionale ciclo di pianificazione dell'attività in un'azienda. per cui c'è una parte di pianificazione, appunto, un momento di realizzazione, che si chiama implementazione, un momento di controllo monitorale e un momento in cui si revisiona quello che si è fatto, se sono cambiati degli elementi di contesto o, insomma, se c'è c'è qualche cosa da cambiare, perché il mondo in cui si è cambiato e bisogna aggiustare il video. Questo è un classico ciclo di pianificazione, non vedo niente di nuovo, ed è anche il ciclo di pianificazione che viene seguito di solito da un'impresa che progetta le sue attività. In questa ottica, quindi, la responsabilità sociale dovrebbe essere semplicemente un'integrazione all'interno di queste fasi. Questo è uno dei punti su cui insisto spesso e, diciamo, nel corso degli anni si è visto che effettivamente questa ottica aveva senso. cioè il fatto che il processo di pianificazione delle attività di grande organizzazione deve essere congiunto a quello di pianificazione della responsabilità sociale. Se le due cose vanno proprio ciascuna per i fatti propri, quella più forte è una scena valutra che tipicamente, se non altro per prassi, è quella di pianificazione tradizionale. Quindi si finisce ad avere una praticamente applicazione tradizionale che spesso è anche con dei punti pesanti di incoerenza rispetto alla responsabilità sociale dell'azienda. E poi quelli che, se anche con delle sue sapete sociale dicendono di correre i vieto a mettere le pezze. Ecco, non è un modo migliore. Dopodiché al mondo si fanno tante cose imperfette, quindi, per carità, gli sforzi sono sempre da apprezzare. Però, se chiamo come consulente, come persona che in qualche modo potrebbe indicare com'è il modo migliore per fare queste cose, il modo migliore è farle contattamente. In realtà, in un'azienda piccola dovrebbe essere più semplice, perché molto spesso non esiste un ufficio di responsabilità sociale staccando tutto il resto. E quindi, queste sono decisioni, comunque, sono cose abbastanza importanti che vengono decide da chi guida l'azienda, che sia il proprietario, che sia il proprietario, che sia il direttore generale, insomma, comunque colui o colei che guidano l'azienda. Quindi, in un'azienda, dal punto di vista organizzativo, è più facile che questo avvenga. Il punto deboli, in questo caso, è che spesso, non essendoci degli specialisti del tema della responsabilità sociale, magari il tema rimane un po' schiacciato. In un'azienda molto più grande, invece, più delle volte c'è una struttura dedicata, che può trovare interlocazioni differenti, in alcuni casi è all'interno della direzione generale, in altri casi invece all'interno dell'investor relation, oppure della comunicazione, già questo è indicativo, per farci capire più o meno qual è il ruolo che viene assegnato alla responsabilità sociale dell'azienda. Il fatto che esista questa struttura garantisce che c'è qualcuno che si preoccupa di questo argomento, ma, a volte, però, tende a ridurre le cose. E quindi, lo sforzo più formico di un cosiddetto CSR manager, cioè della persona responsabile di promuovere la responsabilità sociale dell'azienda, è proprio quello di andare continuamente a ricordare ai vari nuovi di linea che devono essere attenti anche a loro. Quali strumenti siete? Tre. E volevo sapere, tra le piccole intese, quali sono gli strumenti che si possono utilizzare per il manubraggio e il litigio? Certo. 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 Allora, solitamente si utilizzano degli strumenti che sono simili a tutti gli usati per le grandi aziende, ma molto significati, per il monitoraggio in sé. Certo. Adesso ci arriviamo. Vi parto solo un secondo dall'inizio così riusciamo a fare tutto il discorso. Allora, qui siamo nella prima parte ancora, pianificare e realizzare. Per pianificare prevede essenzialmente tre fasi, un'analisi, l'individuazione di obiettivi e la definizione di strategie. Questo può sembrare molto ridondante come un'azienda piccola. In realtà non lo è, le quasi logiche sono fuori. Dobbiamo solo andare a vedere come poi si traduce in pratica in un'azienda piccola. Io adesso vi farò vedere molto rapidamente gli strumenti che sono stati sviluppati prevalentemente per aziende più grandi e per ciascuna, vi dico, di solito non può essere da qualcuno per le imprese più piccole. Il primo passaggio è un cosiddetto assessment della responsabilità sociale. Cioè, cosa vuol dire? Un'analisi dello stato dell'arte. Ok? Questo è lo stesso schema che abbiamo visto ieri utilizzato da un'altra parte, cioè quello del rating medico degli organomi. La logica è sempre quella. In realtà ci sono delle questioni che sono universalmente ritenute importanti per la responsabilità sociale, le vado a, diciamo, splittare, a specificare in criteri precisi e vado a vedere a che punto è l'azienda su quelle aree. Naturalmente ci saranno aree, come dicevamo ieri, più o meno importanti a seconda del settore in cui lavora l'azienda, siamo andati a dei paesi in cui lavora l'azienda, perché chiaramente se abbiamo un'azienda che lavora magari fuori Italia, o in un contesto magari dei paesi in via di sviluppo, eccetera, l'attenzione sul tema dei gruppi umani sarà molto alta. se lavora solo in Italia non è che non ci sia, c'è comunque quello che poi si tratta un troppo di tutto, però in maniera molto più ridotta e soprattutto con gli strumenti diversi per andare a identificare lo stato dell'arte. Con questo tipo di analisi viene fatta in realtà anche per aziende molto piccole, per esempio mi hanno aiutato di farlo semplicemente con un'intervista, e per la mia esperienza è sempre utile che ci sia un esterno a fare questo tipo di analisi, perché se lo fa da solo l'imprenditore diciamo, il più delle volte non riesce ad avere il distacco di, diciamo, di un'analisi argentina, sì, e poi a volte proprio anche una questione incompetente, cioè lo si intende di suonare un'azienda che evidentemente ne sa molto più di noi su quello che lo fa di niente, però magari non si è mai supermato a sviscerare delle questioni di etica rispetto ai fornitori, no? e quindi a volte proprio aiuta come minimo la checklist, diciamo, il questionario, però secondo me è diverso quando c'è proprio una persona che fa le domande, questo è dimostrato anche, diciamo, dalle analisi che fanno le agenzie di rating, insomma c'è una grossa differenza sulla qualità dei dati fra quelle che si scomodano a parlare con le aziende che analizzano e quelle che ti mandano un questionario che torna indietro. Allora, se per esempio io a un'azienda grande domanderò se ha, non so, un sistema di gestione ambientale certificato, eccetera, a un'azienda piccola non chiederò se ha la ISO 14001, però le chiederò come gestisce, cioè come presta attenzione all'impatto ambientale dei processi produttivi. A seconda della risposta che mi torna indietro capirò se esiste di fatto un sistema di gestione oppure se ci sono dei buchi in questo sistema di gestione, cioè cercherò con un processo un po' maieutico di tirare fuori dalla mente di chi lavora dentro quell'azienda delle cose che magari fa e magari non fa. Devo cercare in questo caso, in maniera appunto molto più dialogica di quanto non farei con un'azienda grande, di tirare fuori delle cose che spesso sono nella prassi, le persone le fanno in maniera scontata e magari sono rilevanti, magari invece non lo sono. E quella persona che, ripeto, è molto brava probabilmente nel suo lavoro, però spesso non ha più palida idea di che cosa è rilevante dal nostro punto di vista. Questo vale ancora di più su quelle tematiche che sono un po' fluide, tipo i rapporti con la collettività. Allora, torniamo un po' all'esempio che facevamo stamattina facendo quattro chiacchiere all'inizio, per esempio il caso dell'artigiano, che è veramente forse un caso limite, cioè veramente un'azienda molto molto piccola. I rapporti con la collettività non saranno quello di aver organizzato un convegno, quello di aver dato una donazione, queste cose classiche, o di aver dato una borsa di studio, però magari potrebbero essere quella di aver preso un apprendista a bottega, di avergli insegnato qualcosa, oppure potrebbe essere quello di aver intavolato con le persone che sono andate presso il suo laboratorio delle discussioni su determinati argomenti, oppure potrebbe essere quello, come dicevamo prima, di aver prestato attenzione alla filiera dei suoi prodotti. Quindi, dove ho preso il cotone che ho utilizzato, da dove arriva, che tipo di materia prima è e che percorso ha fatto, che è già un tema molto sfidante, perché, come ci dicevamo prima, facendo due chiacchiere, ricostruire la filiera dei materiali per un piccolo artigiano, per esempio, può essere molto molto difficile. Quindi è già un grosso impegno. Quindi è un po' su questo genere. Fornitori. Molto spesso si pensa, boh, chissà che diciamo a quei fornitori che cosa... Allora, con i fornitori c'è una questione di responsabilità sociale che è reciproca e che si estrinseca in cose anche molto semplici, ma chiave. Per esempio, se io pago sistematicamente in ritardo i miei fornitori, questo non è un atto socialmente responsabile. Non lo è. Questo produce effetti devastanti nell'attività del mio fornitore. Quindi i tempi di pagamento dei fornitori sono uno degli indicatori chiave della relazione con i fornitori. E questo è applicabile a chiunque. Dal più piccolo artigiano all'azienda multinazionale. Probabilmente l'azienda multinazionale, se paga sistematicamente in ritardo, è in grado di far fallire un fornitore. Forse l'artigiano no. Però rimane il fatto che quello sia uno dei criteri chiave. Da parte del fornitore, invece, c'è il fatto di garantire forniture regolari, con la qualità richiesta. Quindi sono cose molto sostanziali. Poi possono esserci cose in più che possono riguardare appunto il fatto di selezionare solo fornitori che sono in grado di dimostrarci di non utilizzare lavoro nero. Solo fornitori che sono in grado di dimostrarci di non evadere le tasse. Sono questioni un pochettino più sofisticate che però già un'organizzazione come ActionAid, per esempio, verifica regolarmente attraverso un questionario molto semplice oppure si fa rilasciare un DURC o cose di questo tipo. Probabilmente non è possibile per un artigiano farsi rilasciare un DURC ogni volta che va a rifornirsi della pelle, però fare la domanda probabilmente sì, ottenere un'autocertificazione sì, sono cose che suonano un po' strane a volte, però in realtà sono quelle che poi possono portare a riflettere su questi aspetti. E comunque l'alzo zero dell'azione, io pago regolarmente il mio fornitore nei tempi e ricevo regolarmente la merce nei tempi, è una questione di responsabilità sociale molto seria legata alla fornitura. Ecco, qui era un esempio delle domande che per esempio vengono fatte rispetto alle risorse umane, chiaramente parliamo di un questionario pensato per aziende molto grandi, per cui la qualità dei sistemi di retribuzione, la qualità della protezione sociale che si dà al personale, la gestione delle ristrutturazioni aziendali, quindi insomma sono temi poi un po' più grossi, però se noi facciamo lo sforzo, e questo potrebbe essere anche un bel esercizio da fare secondo me, in un approfondimento fra voi come volete, di prendere uno di questi questionari, che tipicamente raccolgono 100-200 domande molto dettagliate, e andare dentro le domande e domandarsi perché viene fatta questa domanda, cioè a cosa si vuole arrivare, allora si tirano fuori anche quelle domande che sono molto sostanziali, e quello che qui magari viene articolato in dieci domande diventano due, ma sono domande chiave che si possono fare anche a un piccolo imprenditore. Un altro argomento importante della fase di pianificazione è la cosiddetta mappa degli stakeholder. Di nuovo qui la questione è chi sono i miei interlocutori chiave, essenzialmente, e che relazioni intercorrono fra questi interlocutori. Lo si fa, diciamo, in un'azienda di una certa dimensione, intervistando i responsabili delle diverse aree e chiedendo quali siano questi interlocutori e soprattutto cercando di andare a fondo del tipo di relazione che sussiste con questi interlocutori, del tipo di interessi che ci sono in gioco, sia da parte dell'azienda che da parte dell'interlocutore. Ci vuole naturalmente massima trasparenza, che poi dopo queste informazioni vengano tutte pubblicate o meno, poi è un'altra questione, però nel momento in cui faccio l'analisi devo essere molto trasparente nel riconoscere quali sono gli interessi in gioco. Ecco, questo esercizio, secondo me, è molto difficile per le imprese piccole perché a volte si tende a considerare solo alcuni degli stakeholder. Tipicamente, se penso appunto alla piccolissima impresa, all'esercizio commerciale, si vede quasi solo il cliente, si fa molta fatica a focalizzare gli altri, no? In realtà ci sono quasi sempre dei dipendenti, anche se magari non proprio sempre, ma comunque difficilmente una persona sola che lavora, quindi ci può essere un dipendente che è un esterno o un familiare che cogestisce, però diciamo di solito si è almeno in due, in una realtà, quindi questo vuol dire che c'è comunque un dialogo. E poi ci sono sicuramente dei fornitori. E poi quello che molto spesso è proprio solo percepito come molto lontano è ciò che comunità, istituzioni, se ne ha spesso solo una percezione di tipo normativo, cioè mi serve la licenza, allora mi rivolgo al comune, piuttosto che mi serve, cioè la finanza mi ha fatto un controllo, si percepisce solo questo aspetto. Ecco, in realtà ci sono poi delle altre cose. Quindi questa è una fase importante. e qui vi ho portato qualche esempio, mi rendo conto che non si legge tanto bene, però sono, diciamo, degli esempi appunto di mappa da cui vengono tirati fuori, in questo caso dei cerchi concentrici, la maggiore vicinanza o lontananza dei diversi interlocutori dall'organizzazione, per cui abbiamo più vicino magari gli stakeholder appunto più diretti come i clienti e poi man mano ci allontaniamo fino ad arrivare alla comunità estesa, eccetera. E nell'altro invece sono stati messi, diciamo, in luce degli aspetti più quantitativi, tipo il tipo di influenza, cioè la forza che lo stakeholder può esercitare sull'organizzazione e quella che può essere l'importanza per l'azienda di quello stakeholder. Chiaramente più ci muoviamo verso qui e più sono importanti, perché se sono importanti per l'azienda e sono capaci di fare grossa pressione, evidentemente siamo al punto di massima attenzione. C'era una domanda, credo. Mi chiedevo, per un'impresa è estremamente importante individuare il proprio istituto di credo, quindi la banca con cui relazionarsi. Esiste un registro o esiste un qualcosa dove si possono attingere le informazioni, quindi dove un'impresa può andare a attingere informazioni per valutare la credibilità dell'istituto dal punto di vista etico, quindi se applica su un codice etico, se ha una serie di procedure, insomma, che siano di responsabilità sociale, per poter avere una buona relazione, e quindi avere un ritorno, diciamo, di quelle che possono essere le sue esigenze, comunque una relazione, un dialogo aperto. Certo, certo, interessante, una bella domanda. Esiste in parte, nel senso che esiste per i grandi istituti bancari. Ci sono, diciamo, abbiamo citato in queste due giornate ogni tanto le agenzie di rating etico. Tipicamente sono delle, in verità, sono delle società private, non sono pubbliche, che fanno il mestiere del, che fanno le agenzie di rating classiche, quindi, diciamo, analizzare il profilo di un'azienda. Però lo fanno con un occhio all'etica. Quindi l'analisi che fanno questo tipo di realtà non è quella che potrebbe fare Standard & Poor's, ma è un suo complemento, cioè, con l'attenzione all'aspetto dell'etica. E lo fanno, di solito, in maniera standard, cioè, diciamo, a nastro, per capirci, sulle più grandi società quotate di un certo contesto, cioè quello americano, di quello europeo, eccetera. Una di queste, diciamo, la più famosa in Europa è Vigeo, scritto Vigeo, che fa questo tipo di analisi in maniera costante. E poi c'è anche, ce n'è un'altra che si chiama SAM, S-A-M, che lavora prevalentemente, invece, per un cosiddetto indice etico, cioè un indice borsistico, che si chiama Dow Jones Sustainability Index, quindi è un insieme, fare riferimento al Dow Jones, che ammette solo società che raggiungono un certo punteggio, diciamo, in termini di etica. È un indice a tutti gli effetti, con le sue quotazioni e tutto quanto. Intesa San Paolo, per esempio, ne fa parte, tanto per citare un'azienda bancaria italiana che ne fa parte. Queste analisi sono molto complesse e hanno un alto livello di tecnicità, si basano essenzialmente sul tipo di griglia che vi ho fatto vedere prima, però vanno ovviamente molto più in profondità, è un po' questa la logica, andando a toccare, questa qua è proprio la griglia di Vigeo, cioè le aree di analisi standard di Vigeo sono proprio queste. Per cui Vigeo contatta tutte le aziende di cui, diciamo, che sono presenti nel suo paniere, si suol dire, quindi tutte le aziende che hanno selezionato come aziende da monitorare costantemente. Vigeo è presente in tanti paesi europei, quindi in Italia ci sono gli analisti italiani, in Francia gli analisti francesi, in Germania gli analisti tedeschi, eccetera, e stila poi un rapporto che viene fatto vedere all'azienda prima di essere, diciamo, speso altrove e poi quindi si dà all'azienda la possibilità di dire no, questa cosa qui che avete scritto non ci siamo capiti bene in realtà io l'ho fatta ma voi non l'avete vista oppure, insomma, si arriva a un profilo che è stato comunque anche rivisto dall'azienda quindi le informazioni che sono contenute lì sono comunque informazioni che siamo sicuri che sono realistiche. non tanto perché Vigeo debba scrivere solo quello che l'azienda vuole perché poi non è così però quello che a volte succede quando abbiamo un approccio invece meno dialogico è il fatto che magari l'analista dice tu hai questo profilo orribile all'azienda non può dire niente perché non gli viene fatto vedere quel profilo preventivamente esce un profilo che poi dopo ognuno può dire è veri, è veritiero, non è veritiero non si sa, non era vero, eccetera ecco, questo tipo di analisi non succede e poi ci sono appunto gli output di questo tipo di analisi una classifica oppure i rapporti completi che però credo che siano venduti da Vigeo adesso non sono un'esperta dell'argomento però credo che il rapporto completo per dire su Intesa San Paolo credo che sia venduto a pagamento però adesso sinceramente non vorrei dire una stupidata esistono comunque appunto classifiche ci sono quelli che sono dentro quelli che sono fuori quindi già il solo fatto che uno sia stato ammesso vuol dire che per la sua categoria ha ottenuto è uno dei migliori diciamo, no? ecco, una cosa da sapere di questo tipo di analisi che secondo me per chi diciamo è un professionista di questo tema è importante è che non sono mai punteggi assoluti cioè, si ragiona per settori perché? allora, se io ho un punteggio assoluto rischio di avere dei settori vuoti perché a seconda dei settori ci sono livelli diciamo proprio per la cultura imprenditoriale che esiste o per le criticità di quel settore io ho settori dove la trasparenza è molto alta settori dove criticità non ce ne sono ce ne sono poche e lì è relativamente facile diciamo rispondere positivamente a una serie di quesiti in questo caso io avrò ipotizziamo che il settore bancario sia uno di quelli facili per dire, no? io allora che cosa avrò? avrò che magari quasi tutte le aziende che mi fanno le domande cioè a cui io faccio le domande dovrebbero essere ammesse allora in questo settore io alzo il tiro perché comunque questo discorso serve sempre per alzare migliorare continuamente quindi se un settore è già avanti io alzo il tiro per cui all'interno di questo settore io faccio domande sempre più difficili e quindi ho comunque una selezione dei migliori di quel settore dentro lì non tutti ci potrebbe essere un altro settore non lo so adesso invento difesa dove magari è spazio difesa dove magari invece per cultura per questioni di criticità eccetera c'è un livello tipicamente di trasparenza molto inferiore o delle criticità non risolte molto forti per esempio in termini di governance è un classico del settore del spazio difesa per esempio perché parliamo spesso di aziende che erano pubbliche fino a non molto tempo fa dove non c'è ancora tutta una cultura legata alla trasparenza alla divisione dei poteri all'interno dell'organizzazione la differenza fra gestione e controllo tutta una serie di questioni importanti allora in questo settore se io utilizzassi lo stesso metro che uso su un settore molto più avanti mi troverai semplicemente il settore vuoto ma questo non è utile a nessuno perché in realtà parliamo appunto di mettere a punto delle classifiche per organizzazioni che comunque devono rivolgersi a quel settore perché ne hanno bisogno in qualche modo quindi se io gli dico semplicemente nessuno di questo settore è accettabile non li aiuto più pensiamo alla piccola azienda che avevamo prima ha bisogno di capire a che banca rivolgersi se io semplicemente dicessi nessuna banca è ammissibile non servirebbe più a nulla e quindi quello che succede è che io ho dei punteggi meno selettivi su quel settore che vengono resi più selettivi anno dopo anno quindi magari faccio un esempio a caso fin meccanica un anno entra ma non è detto che l'anno dopo ci stia ancora dentro se la situazione è la stessa dell'anno precedente ci entra poi l'anno dopo alzo un po' il tiro allora tu hai fatto queste quattro cose quest'anno o ne hai cinque o esci o ne hai sei o esci ok funziona un po' così il meccanismo immagino che un'analisi del genere per esempio non possa avere niente a che fare o non credo che ci sia un discorso del genere da fare con immagino case farmaceutiche anche piccole perché in quel caso bisognerebbe proprio stravolgere un po' tutto no no queste analisi riguardano qualunque settore sì sì ci sono assolutamente però no hai sempre i pratici per esempio di case farmaceutiche che abbiano fatto questo tipo di discorso allora adesso se vuoi dire la verità a memoria non mi ricordo dovrei andare a rivederlo i nomi devo andare a rivederli i nomi devo andare a rivederli perché onestamente non mi ricordo però è uno dei settori che ci sono cioè non è un sistema selettivo nel senso di escludere radicalmente dei settori non a caso ho fatto l'esempio dell'aerospazio difesa che soprattutto per quanto riguarda la difesa per esempio è uno di quei settori che spesso vengono cancellati quando facciamo un discorso di tipo rigidamente selettivo adesso non giudico sul fatto che sia una scelta giusta o sbagliata però molto spesso tabacco gioco d'azzardo armamenti sono i classici che vengono tagliati fuori ecco non è la logica con cui si muovono questo tipo di analisi quindi peraltro se anche si muovessero in questo in questa logica in realtà le farmaceutiche non sarebbero fuori nel senso che adesso noi possiamo avere il nostro pensiero sull'attività delle grandi farmaceutiche però le grandi farmaceutiche comunque si muovono in un settore che di per sé non è considerato controverso o comunque non è considerato nero nel senso che sviluppano farmaci che curano comunque milioni e milioni di persone cioè il loro lavoro come missione non è un lavoro che nella generalità la comunità consideri deprecabile ci sono poi degli aspetti di come questo lavoro viene condotto che invece molti considerano deprecabili però questo non li ascrive a un settore nero invece diciamo per esempio il tabacco è tipicamente considerato un settore nero perché quello che si contesta è proprio l'attività cioè la lavorazione del tabacco la messa in vendita di sigarette è considerata di per sé un'attività molto grave e quindi ti escludo in partenza per quello che fai la farmaceutica invece è tu diciamo la tua missione è far star meglio le persone sviluppando dei medicinali e delle cure che di per sé non mi sembra una cosa negativa o comunque a parte quello che può sembrare a me non è considerata negativa dalla comunità come lo fai in alcuni casi non mi piace e allora vado a fondo su come tu lo fai ok si forse c'è più rapido sul come si garantisce l'imparzialità dell'agenzia di rating che è un problema che mi viene in mente per quanto riguarda adesso il commercio ai cuoci in esempio che lì ci sono state questioni sulla sull'eticità della stessa agenzia che si occupava di certificare quelli che erano e che magari subì oppressioni lobby da da varie parti ecco in questo caso come si fa a sapere che VGO e compagnia non hanno allora diciamo che molti ritengono che l'unico modo per garantire questo sarebbe avere delle agenzie di rating pubbliche no? è un approccio che posso capire quindi si dice se i soldi che finanziano la vostra attività provengono dalle istituzioni voi siete liberi di esprimervi se invece i soldi che finanziano la vostra attività provengono comunque in qualche modo dal settore privato di fatto voi promuoverete gli interessi di quel settore no? approccio che posso comprendere e che probabilmente in una certa misura è un rischio anzi credo che sia un rischio che si corre non sono così sicura che rendendole pubbliche questo rischio si eviti perché abbiamo visto in tanti casi come questi limiti poi vengono purtroppo aggirati in tanti modi oggi non è così comunque nel senso che oggi che io sappia adesso dico io non sono una specialista dell'argomento però che io sappia non esiste un'agenzia di rating pubblico nessuno stato si è rating etico pubblico nessuno stato si è preso diciamo l'onere di avere la propria agenzia o la commissione o la comunità europea o l'ONU cioè non mi risulta che esista una vera agenzia di rating pubblica magari anche internazionale e si lo so me lo ricordo però mi sembra che alla fine non sia accaduto per il momento ecco in questo momento quello che viene fatto è molto simile a quello che abbiamo al meccanismo che abbiamo già visto ieri per l'attività dei grandi aziende per l'attività di grandi organizzazioni non profit eccetera c'è un controllo sociale per cui di solito i report di organizzazioni come VGO vengono passati al pettine fisso cioè al pettine fitto da parte dei cosiddetti social watch quindi da parte di organizzazioni non governative da parte di think tank da parte anche dei media che vanno a fare le pulci a quello che viene detto e quindi diciamo che l'attenzione da parte dell'analista è dovuta al fatto in parte che sa che c'è un controllo sociale su quello che poi pubblicherà e in parte in realtà per quello che è la mia esperienza professionale anche dal fatto che le aziende serie non sono interessate ad avere un'analisi poco seria perché va a loro interesse il fatto che l'analisi sia seria nel senso che se tu sei bravo non sei interessato a che l'arbitro bari perché se l'arbitro bara fa entrare anche tutti quelli che non sono bravi e tu hai fatto lo sforzo di avere quella certificazione per niente perché poi con la certificazione lì non vale più niente se ce l'hanno tutti quelli che sono non bravi quindi in realtà per quella che è la mia esperienza le aziende serie stesse non gradiscono che l'analista sia condiscendente nei loro confronti perché quello che loro sanno è di essere bravi e non vogliono che vengano ammessi nello stesso indice quelli che non hanno fatto altrettanto sforzo quindi c'è in realtà un controllo sociale abbastanza articolato naturalmente tutto questo non è una garanzia noi non possiamo mai essere sicuri al mille per mille sono comunque temi ancora abbastanza nuovi se ci pensiamo per arrivare a un grado di standardizzazione certezza normazione abbastanza solida nel campo della contabilità economica di un'azienda ci sono voluti secoli quindi anche qua è come se noi fossimo ai primi tempi della contabilità economica abbiamo ancora decine di standard diversi abbiamo ancora tante cose che non sono state affrontate è comunque un tema impesante di venire probabilmente adesso c'è stata una discussione su creare un'agenzia di rating etico pubblica che per qualche motivo è naufragata magari fra 50 anni poi l'agenzia di rating etico pubblica invece ci sarà e magari non sarà neanche statale visto che la maggior parte di queste aziende sono multinazionali magari sarà in capo alla commissione europea o magari sarà dell'ONU o comunque avrà la possibilità di fare analisi valide poi per un contesto internazionale vado avanti un'altra delle cose interessanti molto diciamo importanti che devono essere fatte in fase di pianificazione di un percorso di responsabilità sociale è quella che ultimamente viene chiamata matrice di materialità sostanzialmente si tratta di individuare i temi veramente importanti da mettere come prioritari per essere molto concreti ultimamente si è diffuso questo strumento per farlo io non mi ci dilungo tanto perché è un tema abbastanza tecnico ed è un tema che probabilmente toccherà anche poi il collega Giovanni Pizzocchero col prossimo seminario comunque si tratta sostanzialmente di andare a costruire uno schema che ci faccia vedere quali sono quei temi che hanno un alto impatto sulle strategie di sostenibilità dell'azienda e una sono considerate importanti da parte degli stakeholder il punto d'arrivo è uno schema che ci fa vedere in maniera molto semplice quali sono i temi considerati materiali cioè importanti che viene dall'inglese materiality da azienda perché hanno un forte impatto sulla sostenibilità delle sue strategie e dagli stakeholder perché le considerano importanti qui questo qua è uno stralcio dell'analisi di materialità di SNAM per esempio l'ho preso uno più o meno a caso mi sembrava abbastanza chiaro anche graficamente loro per esempio sono arrivati a capire che il rispetto dei diritti umani è un tema molto importante sia per i propri stakeholder che per loro la gestione della catena di fornitura è un tema chiave per loro la governance è considerata un tema chiave qui hanno disegnato con colori differenti i temi che afferiscono prevalentemente a tre aree area di business in blu economico diciamo dove hanno messo anche la governance ambientale in verde e sociale in rosso come ci si arriva vado proprio veloce per non dilungarmi troppo su queste cose più tecniche ci si arriva facendo un elenco delle tematiche come vedevamo prima simile a quello di prima e andando a vedere anche cosa fanno i competitor questo praticamente per un'azienda grande in maniera meno strutturata comunque lo si può fare anche con un'azienda piccola nel senso che l'elenco delle tematiche abbiamo visto che in realtà non è appannaggio di un'azienda grande ma lo possono fare tutti il benchmark con i competitor un'azienda grande lo farà utilizzando indicatori cose eccetera un'azienda piccola potrà comunque dire ma gli altri quattro che fanno il mio messiere quattro strade più in là sono messi così 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 e così cioè tipo l'attenzione verso i fornitori non ce l'ha nessuno oppure ce l'hanno tutti le offerte speciali verso i clienti ce le abbiamo non ce le abbiamo ce le hanno non ce le abbiamo quindi il confronto in realtà poi si fa su questioni molto concrete abbiamo identificato in questo modo le tematiche rilevanti e poi andiamo attraverso vari strumenti a capire quali sono quelle prioritarie su un'azienda grande lo si fa in tanti modi in realtà qui vi ho riportato una metodologia che è quella che usiamo di solito noi per fare queste cose che abbiamo visto avere un buon riscontro quindi si fa una cioè si vanno a leggere cioè a studiare le cosiddette analisi di settore le analisi di opinione pubblica e di pressione dei media si fanno delle interviste agli interni in cui gli si chiede che percezione hanno rispetto a quello che gli stakeholder pensano si va ad analizzare quello che esiste codice etico politiche eccetera e poi si fanno delle interviste alle posizioni interne alle funzioni interne da un'altra da un'altra ottica questo passaggio quando si può questo sulle funzioni interne per la percezione di stakeholder lo si fa invece intervistando direttamente gli stakeholder non è sempre possibile ma quando si può lo si fa in questo modo abbiamo delle diciamo un'idea della delle questioni che riguardano quel settore le macro questioni che riguardano quel settore abbiamo un'idea di quello che pensano gli stakeholder abbiamo un'idea di cosa ha già fatto l'organizzazione e di che cosa pensano le persone che ci lavorano l'insieme di tutta questa roba con un sistema di pesi di roba abbastanza articolato ci dice quali sono i temi più rilevanti che abbiamo visto scusatemi abbiamo visto in questa in questa matrice tutto questo per un'azienda più piccola può essere tradotto in qualcosa di più semplice di nuovo attraverso le interviste facendo delle domande chiave e andando però magari anche a fare un po' di analisi di settore che lo possiamo fare di solito più delle volte anche online raramente non esiste proprio nessuna informazione sul settore di cui si tratta magari uno studio fatto da una camera di commercio uno studio fatto da un'università cioè qualcosa di solito si può trovare per oggettivare un po' il discorso perché se no il rischio è quello per usare una termologica molto tecnica di guardarsi l'ombelico cioè se io parlo solo con l'imprenditore e che vede le cose dal suo punto di vista io come esterno non è che le posso discutere non serve quasi a niente l'esercizio serve se io arrivo dal fuori con una consapevolezza che le questioni di quel settore sono di un certo tipo e gli faccio da contraltare ok non mi soffermo tanto sugli aspetti di implementazione cioè qua avevamo visto che le fasi la seconda fase scusatemi c'era obiettivi e strategie allora sulla base di quello che è emerso durante l'analisi io chiaramente andrò a sviluppare i miei obiettivi e le mie strategie una cosa interessante che avevamo sviluppato nel corso di un seminario con una piccola azienda adesso guardo se ce l'ho sotto mano ve la faccio anche vedere era per esempio un documento molto semplice che era un po' un insieme di tutte queste cose cioè sanciva dei principi e metteva però anche degli strumenti vediamo un attimo solo metteva anche degli obiettivi in fra le le azioni da realizzare vediamo se ce l'abbiamo qua eccolo qua allora questa è una cosa piccolina fatta da una micro impresa che ha che è composta dal titolare e da un dipendente che in quel momento non era fisso e il cui obiettivo per il titolare era di rendere fisso quindi lui aveva già identificato qual era il suo primario obiettivo di responsabilità sociale dare un lavoro stabile a questo ragazzo che aveva cominciato a lavorare con lui questo questo lavoro diciamo ha portato il titolare di questa azienda a stilare un documento che ha chiamato codice etico che è molto diverso dal codice etico che abbiamo visto prima ma adesso ne ho a vedere che comunque ha un grosso valore data la dimensione di quell'azienda che lui ha deciso di allegare a tutti i suoi contratti quindi di far firmare ai suoi clienti futuri teniamo presente che è un'azienda che si muove nel settore della gestione dei rifiuti e quindi è un settore molto delicato sia dal punto di vista etico che dal punto di vista ambientale quindi da lì anche l'esigenza sentita da questo piccolissimo imprenditore di dotarsi di uno strumento che lo differenziasse rispetto ad altri che facevano il suo stesso mestiere e quindi ha stilato questo documento molto sintetico che contiene i valori dell'impresa i principi che guidano l'operatività aziendale e i target da raggiungere i clienti che hanno ricevono questo documento possono restituirne una copia firmata tenerlo in visione ma non sottoscriverlo oppure rifiutarlo questo in una prima fase perché appunto essendo uno strumento nuovo lui ha voluto cominciare a vedere quali erano i suoi clienti che si rifiutavano di firmarlo per andarci poi a parlare e dire perché avete rifiutato di firmarlo e a seconda del tipo di risposta decidere se sottoscrivere lo stesso su un contratto oppure lasciar perdere ecco se magari lo possiamo anche questo magari poi ve lo lascio appunto questo documento anche per i partecipanti eventualmente e quindi leggiamone magari qualche pezzetto cioè CIMAD consapevole che un'impresa obblighi non solo verso i propri azionisti al fine di produrre utili e verso i propri clienti al fine di ottimizzare i costi e migliorare i servizi ma anche nei confronti della comunità dove opera e verso l'ambiente si è data un codice etico in cui sono fissati alcuni principi e regole di comportamento in particolare la società consapevole dei costi sociali e ambientali elevati nel conferimento dei rifiuti in discarica privilegia il recupero dei medesimi anche mediante riciclo riutilizzo o produzione di fonti di energia al fine di promuovere questi obiettivi si impegna a trasportare almeno il 60% dei rifiuti in centri di recupero o riuso naturalmente è un obiettivo reale nel senso che di solito accade che vengano portati molto meno di quella percentuale teniamo conto che ci si rivolge prevalentemente a aziende che gestiscono rifiuti per gestire rifiuti che non possiamo gestire come i normali rifiuti urbani altrimenti non ci sarebbe tutto questo parliamo di rifiuti industriali di rifiuti pericolosi di rifiuti per i quali è necessaria una gestione ad hoc la società al fine di garantire tranquillità ai propri dipendenti la possibilità di progettare il proprio futuro privilegia rapporti di lavoro stabili con contratti a tempo indeterminato rapporti costanti e duraturi vengono privilegiati anche con le collaborazioni esterne e i fornitori certi che una serenità in ambito lavorativo possa migliorare anche i servizi ai propri clienti e creare rapporti fiduciari e trasparenti e adesso non ve lo leggo tutto però questo è quello che ripeto è una micro azienda ecco la differenza fra questa micro azienda e un'azienda come Action Aid o un'azienda come Intesa San Paolo è che naturalmente per fare un lavoro di questo tipo l'imprenditore o se lo fa da solo oppure ha bisogno di essere supportato per le risorse che servono per rivolgersi a dei professionisti come potessete essere voi per farsi aiutare mentre magari una grande azienda decide che lo vuole fare chiama un consulente e dice mettiamoci al tavolo e facciamo questa roba qua però la sostanza è la stessa non è anzi io forse in alcuni casi forse per una mia preferenza personale quindi del tutto opinabile a volte apprezzo quasi di più queste cose qua perché effettivamente trovo che non diciamo nessuno glielo ha imposto nemmeno lontanamente una grande azienda quotata comunque il codice etico ormai lo deve fare allora va bene lo fa bene o lo fa male e già lì c'è un merito però ecco secondo me è interessante vedere come un imprenditore singolo che tutto sommato è proprietario della sua azienda spesso si dice ma quando è così poi gli imprenditori non si mettono in gioco forse non è così vero ci sono imprenditori che hanno una forma culturale tale per cui sentono il bisogno invece di mettere nero su bianco queste cose e di farle anche sottoscrivere ai propri clienti che confesso al primo momento l'hanno guardato un po' ma perché devo firmare questa roba qua però poi dopo in tanti l'hanno fatto ecco io adesso non mi soffermo tanto sulla fase di realizzazione non perché non sia importante è chiaramente la più importante di tutte ma perché in quella fase diciamo la varietà è veramente tantissima delle cose che si possono fare in molti casi il ruolo del consulente si riduce un po' perché le cose le devono fare le persone che lavorano dentro l'azienda essenzialmente c'è tanto lavoro che si può fare ma penso che lo vedrete soprattutto quando parlerete di welfare aziendale o degli altri temi sui temi dei processi quindi tanto lavoro da fare con le risorse umane sia di tipo culturale che di tipo di revisione dell'organizzazione quindi revisione di processi organizzativi eccetera soprattutto in strutture un po' grandi strutture più piccole il ruolo del consulente è prevalentemente legato alla fase di impostazione e alla fase di rendicontazione che andiamo a vedere poi di solito la fase di realizzazione è molto interna quindi adesso mi concentrerei su un altro strumento che è molto importante e forse però dobbiamo 10.33 possiamo andare ancora un po' avanti fare una pausa un po' più avanti allora rendicontazione e bilancio sociale allora innanzitutto il concetto che guida tutto questo sistema della rendicontazione o cosiddetta accountability cosa vuol dire? accountability è una parola che non ha un'esatta traduzione in italiano e questo già secondo me è abbastanza significativo da un punto di vista culturale fatto sta che significa rendere conto di qualche cosa a qualcuno quindi è il concetto che tu come azienda devi o vuoi rendere conto di quello che fai a qualcuno che è fuori da te quindi il bilancio sociale è sicuramente un documento che ha una dimensione comunicativa però la cosa che a volte si tende un po' a dimenticare è che è per prima cosa uno strumento di rendicontazione cioè si chiama bilancio per questo perché nasce come complemento al bilancio di esercizio questo per esempio in molti casi quando parliamo di organizzazioni che ne hanno la possibilità io per esempio suggerisco di tenere una parte cioè soprattutto se non esiste già un sistema di monitoraggio di costruire un sistema di monitoraggio che chiamiamo pro bilancio sociale che è una cosa interna e poi c'è un documento che si pubblica che ha invece una dimensione di tipo più comunicativo che contiene informazioni rigorosamente vere però magari molto più leggero eccetera adesso andremo a vedere perché allora cos'è il bilancio sociale io qua vi ho messo una definizione che reputo abbastanza semplice e chiara teniamo presente però che sotto questo nome ci vanno tanti documenti vari e vari opinti perché proprio perché è un strumento comunque ancora nuovo non esiste uno standard rigido su come deve essere fatto il bilancio sociale esistono tante linee guida tanti suggerimenti tante possibilità questo è un po' il suo bello ed è un po' il suo brutto vediamo poi andiamo a vedere perché è bello e perché è brutto comunque diciamo che è essenzialmente un documento informativo che descrive l'attività di un'organizzazione in un determinato periodo di tempo con particolare attenzione al rapporto fra questa organizzazione e il contesto sociale in cui questa opera quindi molto vaga come definizione in realtà molto generica che cosa contiene contiene informazione di carattere economico anche se dobbiamo stare attenti a non andare a fare la copia del bilancio quindi bisogna fare una selezione informazione di carattere sociale e ambientale e un elemento considerato chiave per un buon bilancio è quello di contenere degli obiettivi di miglioramento per il futuro proprio perché l'idea è quella di inserirsi in quel ciclo di Deming che vedevamo prima cioè pianificazione realizzazione rendicontazione revisione e poi si ricomincia se io non devo migliorare niente il ciclo si chiude e andiamo tutti a casa come dicevo prima le forme di reporting cioè di rendicontazione della responsabilità sociale sono sono tante diverse io qua vi ho riportato questo questo grafico che è preso dalla ultima ricerca fatta da KPMG ogni anno che vi dà un'idea della varietà delle forme di reporting esistenti tutte riconducibili a questo ambito cioè tante aziende chiamano questo tipo di rendicontazione rapporto di sostenibilità ed è la fetta che vedete più grande colorata in viola altri parlano di rapporto di responsabilità sociale di impresa o di rapporto di responsabilità di impresa che è un'altra cosa ancora oppure poi tutta un'altra serie di piccole di altre varianti io peraltro vi lascerò anche questo studio che può essere interessante da consultare anche se è molto concentrato sulle imprese grandi perché KPMG è una grande società di consulenza e analizza mi sembra le 200 più grandi aziende del mondo peraltro con un risultato sorprendente per me quest'anno ed è che sembrerebbe da questa analisi che la reportistica sociale delle grandi imprese italiane sia qualitativamente la migliore al mondo io vi consegno l'informazione e non ne voglio sapere niente perché non lo so come l'hanno costruita questa informazione comunque ne usciamo per una volta bene e ogni tanto fa bene neanche sentire questa grandi aziende con documenti di reporting qui appunto parliamo di grandi aziende quindi le più grandi società quotate per capirci essenzialmente in Italia un paniere più o meno confrontabile con gli altri paesi non è mai facile fare questo tipo di confronti ci dice che circa il 77% delle più grandi società quotate italiane fanno qualche forma di reportistica e vediamo che siamo più o meno sul livello di altri paesi simili a noi come la Germania mentre nel contesto anglosassone un po' di più il 91% questi sono strumenti che sono proprio nati in quel contesto quindi non mi stupisce la Francia sorprendentemente alto se non fosse che hanno una legge che impone di farlo quindi questo è il motivo e la Spagna vediamo che più o meno si assesta di nuovo su valori simili ai nostri quindi questo era per darvi un po' una panoramica tutte queste informazioni come dicevo le trovate in quel report un po' più dettagliatamente allora venendo al bilancio sociale come vi dicevo esistono molti modi di fare un bilancio sociale e diciamo che c'è una una componente che è sempre fissa nel senso che un bilancio sociale ci deve raccontare alcune cose sull'identità di quell'organizzazione quindi ci deve dire qual è la sua visione la sua missione i valori tutte le cose che abbiamo visto ieri ci deve raccontare qual è la governance di quell'organizzazione perché senza quello noi praticamente non sappiamo quali sono le leggi che governano quell'organizzazione quindi non andiamo da nessuna parte e per ciascuna di queste informazioni diciamo ci sono tante linee guida che ci dicono esattamente che informazioni sono necessarie poi andiamo a vedere un po' di questi di questi standard deve avere una parte che ci racconta l'organizzazione quindi l'organigramma le responsabilità i processi organizzativi anche qui naturalmente la strutturazione è più forte o meno forte a seconda della dimensione dell'azienda e poi una parte che invece racconta quello che si fa l'impostazione più classica per raccontare quello che si fa è simile a quella che abbiamo visto prima nel codice etico cioè per stakeholder allora ho lo stakeholder risorse umane e ti spiego che cosa faccio cioè chi sono le mie risorse umane intanto sono x x donne x uomini x donne a questo livello x uomini a questo livello gli stipendi medi il differenziale salariale fra uomini e donne se c'è qual è il turnover quindi tutta una serie di informazioni che mi servono a mappare questa popolazione e e poi gli aspetti cosiddetti più soft quindi i processi cioè esiste un sistema di valutazione del personale qual è come è strutturato il personale conosce la sua valutazione periodicamente a modo di essere informato di qual è l'opinione del management rispetto al suo lavoro e di migliorarsi eventualmente dove non funziona formazione la faccio non la faccio quanta ne faccio come la faccio politiche eventualmente ristrutturazioni aziendali ce ne sono state non ce ne sono state che cosa è successo ho lasciato a casa delle persone no come ho assunto non ho assunto tutti questi aspetti ho vinto magari dei premi come buon datore di lavoro non li ho vinti tutte le informazioni rilevanti rispetto al personale e lo stesso rispetto ai clienti e al mercato quindi qual è il mio mercato quanti sono i miei clienti come come li ho profilati ecco i fornitori un po' come dicevamo prima cioè io ho una politica che gestisce le mie relazioni con i fornitori la metto in pratica la monitoro vi so dire quante volte ho pagato in ritardo i miei fornitori oppure se questa cosa non la faccio ho delle controversie con i miei fornitori ci sono delle cause qualcuno magari non ha fatto il suo mestiere come doveva e abbiamo una causa in atto abbiamo questo anche con i dipendenti naturalmente clienti un altro elemento fondamentale sono i reclami quindi tutte queste informazioni il più delle volte diciamo nella classica struttura del bilancio sociale vengono organizzati appunto per stakeholder ce ne sono poi invece altri di bilanci sociali dove questi argomenti vengono invece organizzati in modi molto differenti per esempio uno dei sistemi che io considero abbastanza valido in molti casi è quello di organizzarli per obiettivi aziendali cioè se io ho stabilito nel mio piano di impresa determinati obiettivi vado a vedere per ciascun obiettivo che cosa ho fatto ci sono poi delle informazioni trasversali nel senso che quelle sul personale spesso sono trasversali quindi magari dedico comunque una sezione all'organizzazione però se io nei miei obiettivi avevo quello di posizionarmi su nuovi mercati vado a vedere se l'ho fatto se avevo come obiettivo quello di stabilizzare il personale vado a vedere se l'ho fatto perché mi piace questo sistema non tanto perché sia onnicomprensivo a volte delle cose te le perdi facendo così ma perché riflette quella logica che è importante per la responsabilità sociale e cioè non è che io sono responsabile di fare il bene nel mondo in generale in base a uno schema che qualcun altro ha deciso per me io mi sono assunto delle responsabilità stabilendo degli obiettivi quelle sono le mie responsabilità non c'è qualcuno fuori di me che mi dice cosa devo fare ok quindi al di là di alcune informazioni molto generali come quelle sulla governance o quelle di dirti quanti dipendenti ho o che differenziale salariale ho rispetto ai miei dipendenti per il resto a mio modo di vedere se io ho integrato la responsabilità sociale all'origine quando ho fatto il mio piano di impresa i miei obiettivi di piano di impresa riflettono anche i miei obiettivi di responsabilità sociale allora se ho fatto questo lavoro per bene vuol dire che nei miei obiettivi ci sono anche quelli di responsabilità sociale quindi io vado a dirti cosa ho fatto rispetto ai miei obiettivi complessivi che includono anche quelli di responsabilità sociale ok questo è un lavoro che io per esempio avevo fatto impostato così con anni e anni fa ormai con RAS che ancora esisteva era stato un esperimento interessante andare a vedere effettivamente ragionando in questo modo cosa erano avevano effettivamente coperto e che cosa alla fine era rimasto tagliato fuori è un ragionamento che ho fatto anche a suo tempo con Intesa San Paolo ma non ai fini del bilancio ai fini dell'analisi interna questo sistema ha un diciamo ha il grosso pregio di essere molto pregnante perché ripeto se io ho definito degli obiettivi specifici e poi vado a vedere e le cose non le ho fatte non le ho fatte e se quelli erano i miei obiettivi più importanti e non li ho realizzati e non li ho realizzati può non essere diciamo forse l'approccio da cui partire se l'azienda non ha mai ragionato di queste tematiche e ha bisogno magari di un passaggio culturale da fare prima in cui forse è più familiare cominciare a ragionare per relazione col fornitore relazione col cliente perché è un po' più soft però ecco sono valutazioni che in realtà deve fare un po' l'azienda e un po' il consulente deve saperla guidare verso la scelta che per lei costituisce un miglioramento incrementale senza essere la scalata del K2 che caschiamo definitivamente rinunciamo e non facciamo più niente quindi sono scelte molto individuali che si fanno caso per caso magari dopo possiamo vedere alcuni esempi di come sono stati organizzati dei bilanci sociali proprio per vedere nella pratica poi come si traducono questo tipo di indicazioni non può fondersi lo schema a seconda delle categorie puntare a degli obiettivi specifici che poi vai a verificare assolutamente sì sì certo certo io forse mi fermerei adesso dieci minuti così tiriamo tutti il fiato e poi abbiamo ancora un paio d'ore che possiamo dedicare a questo lavoro grazie 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 a tutti